Variante Omicron, il paziente zero, sto bene. Il manager casertano contagiato con la variante sudafricana conferma il vaccino ha funzionato. Sintomi lievi anche per i familiari in isolamento, professori e compagni di scuola dei figli. Incidenza al 3,8% in Campania, aumentano i ricoveri in degenza. Covid, allarme variante, Mastella, ora più multe. Nel Sannio cresce il numero dei contagi, il sindaco di Benevento annuncia la stretta sui controlli. In Irpini ha 20 positivi, ad Ariano torna la paura, a Salerno usca allagato, sospesi i tamponi. Allerta meteo in Campania, voragini e scuole chiuse. La protezione civile ha prorogato di ulteriori 24 ore l'avviso di allerta di livello arancione. A Napoli si è aperta una voragine in piazza Carlo III, evacuate 40 famiglie. Nel Salernitano frane, smottamenti nell'agro e in costiera. A Salerno e nei comuni vesuviani, domani scuole chiuse. Provinciali Avellino e sfida tra PD e Italia Viva, presentate le candidature per Palazzo Caracciolo. Due liste per l'accordata dei Renziani, che sostiene l'imprenditore D'Agostino. E due liste per l'alleanza PD 5 Stelle, che lancia il sindaco di Montella, Buonopane, con il centrodestra anche i Mastelliani. Salerno senza luci, la rabbia dei turisti. La mancata accensione delle luci d'artista ha provocato rabbia e disagi per tanti turisti che erano arrivati a Salerno per l'inaugurazione dell'evento. Andiamo via senza aver visto nulla. Protestano anche gli albergatori e chiedono aiuto al comune. Napoli-Lazio, Spalletti, niente alibi. Gli azzurri alle 20.45, al Maradona contro l'ex Sarri. Gara dura, ma dobbiamo andare oltre le difficoltà. Martedì, Salernitana-Juve nel ricordo rifortunato e con l'incognita, Ribery. In Serie B, il Benevento ritrova serenità e prepara la trasferta di Vicenza. In Serie C, l'Avellino espugna il Liguori e vince il derby con la Turris. E questi erano i nostri titoli. Buonasera, buona domenica dal Tg regionale del canale 696. Apriamo il nostro notiziario con un'ampia pagina dedicata al Covid. Cominciamo dal caso del manager Casertano, il primo paziente zero della variante Omicron in Italia. Sto bene, ha detto, il vaccino ha funzionato. Sintomi lievi anche per la famiglia in isolamento, professori e compagni di scuola dei figli. Ma intanto l'incidenza è ancora al 38% e aumentano i ricoveri in degenza. Vediamo. Sono contento di essermi vaccinato perché nel nostro caso ha funzionato in maniera egregia. A dirlo in una nota, il paziente zero italiano della variante Omicron, considerati sintomi lievi miei e della mia famiglia che è stata contagiata e comprende persone tra gli 8 e gli 81 anni, posso dire che l'infezione si è manifestata solo in modo blando. Sono le prime parole del dirigente Eni di Caserta, che è tornato da un viaggio di lavoro in Africa positivo alla nuova variante del coronavirus, che sta preoccupando il mondo scientifico e sanitario. Ma occorre dire che tutti erano vaccinati con doppia dose e versano in buone condizioni, manifestando sintomi leggeri della malattia. Il cluster di contagio con la nuova variante sudafricana dovrà essere comunque confermato nelle prossime ore dal Cotugno di Napoli, dove si sta svolgendo il sequenziamento sul DNA del virus raccolto dai tamponi sui familiari. I docenti e gli alunni delle due classi di Caserta, frequentate dai figli del manager, sono in isolamento per motivi precauzionali, ma non sono emersi in nuovi casi di contagio. L'ASLA ha tracciato tutti i contatti avuti dall'uomo e dai parenti. Il presidente della regione, Vincenzo De Luca, invita ancora una volta a completare tutti il ciclo di vaccinazioni, ad avere comportamenti ispirati alla massima prudenza, a cominciare dall'uso della mascherina, che in Campania, ricordato, è rimasto sempre obbligatorio. De Luca ribadisce inoltre la necessità che venga esercitato massimo controllo da parte delle forze dell'ordine. Negli ultimi giorni i contagi si sono moltiplicati, soprattutto nella fascia di età che va da 0 ad 11 anni. L'ultimo bollettino riporta 1.147 nuovi positivi e altre tre vittime in Campania aumentano a 300 i ricoveri in degenza ordinaria. Natale e Capodanno a Napoli. Sì, ha i fuochi in piazza per il Biscito, ma il comune prova a mettere un argine al rischio contagio emessa una nuova ordinanza. E Manfredi avverte che bisogna rispettare tutte le regole. Vediamo. Capodanno 2021. Il comune di Napoli non vuole rinunciare alle feste, anzi vorrebbe raddoppiare. e c'era pure riuscito a centrare la doppietta piazza Plebiscito-Lungomare, ma poi, almeno per ora, gli sponsor per il festival musicale che era previsto in via Caracciolo si sono tirati indietro. La paura di un'ulteriore evoluzione dei casi di contagio frena la programmazione, senza contare che il governatore De Luca ha già preannunciato la volontà di vietare le feste in piazza in caso di ulteriore aumento dei positivi. Salta al momento la festa musicale, ma il sindaco è orientato a tenere in vita almeno il tradizionale spettacolo dei fuochi d'artificio che da Castel dell'Ovo illuminano tutta la città. Manfredi prova a mediare. Se non c'è il lockdown, non ha senso vietare le feste, ma è necessario rispettare le regole. Sono preoccupato nel senso che noi non dobbiamo pensare che la pandemia sia finita. La pandemia è ancora presente, i numeri ce lo dicono. Io spero che noi riusciamo a garantire un Natale sereno, anche perché tutti ci meritiamo un Natale di maggiore serenità e che anche gli operatori economici aspirano a un Natale di maggiore tranquillità. Però per far questo bisogna rispettare le regole. Quindi il tema della vaccinazione è fondamentale, soprattutto per utilizzare la mascherina e noi cercheremo anche di fare in modo di ridurre gli assembramenti, cosa complicata in un periodo festivo come quella natalizia in una città come Namo. E in Irpinia torna la paura ad Ariano Irpino, 20 positivi in meno di 24 ore, 4 nuclei familiari coinvolti, molti bambini. Vediamo. Torna la paura ad Ariano Irpino, zona rossa nella prima ondata Covid che ora deve fare i conti con 20 positivi maturati in sole 24 ore. Dai dati Aslo vien fuori che ci sarebbero almeno 4 nuclei familiari interessati dal contagio e figurano anche diversi bambini. Il che potrebbe far presupporre che il focolaio si sia sviluppato in ambito scolastico. Complessivamente su 731 tamponi effettuati sono risultate positive. Oggi in Irpinia 53 persone, oltre ai 20 del Tricolle anche Grotta Minarde con il fiato sospeso per altri 6 casi. 5 se ne contano a Friggento, 4 a 3 ora, 3 nel capoluogo e a Montella, 2 a Mirabella e 1 rispettivamente ad Atripal, D'Avella, Fontana Rosa, Milito Irpino, Monte Calvo Irpino, Montoro, Mugnano del Cardinale, Santa Lucia di Serino, Zungoli e Venticano. Intanto si prova ad accelerare con la campagna vaccinale per le terze dosi. La variante Omicron è sbarcata anche in campagna e l'allerta è massima. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 2950 dosi, ma i centri vaccinali irpini restano chiusi la domenica e i giorni festivi. Ieri pomeriggio al Palo del Mauro è stata un'altra giornata di passione con il personale ASL costretto a sospendere l'open day. Troppe persone in fila sotto la pioggia tra prenotati e chi invece aveva accesso libero. Tra le proteste qualche momento di tensione. Da domani si riparte nel capoluogo con l'orario 8.20. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, torna ad ammonire i cittadini a seguire comportamenti anticontagio. Intanto nel Sannio cresce il numero dei ricoveri in ospedale. Vediamo. Aumentano ancora nel Sannio le persone che affette dal Covid hanno avuto necessità di ricorrere alle cure ospedaliere. Seppure di una sola unità sale il dato dei posti letto occupati all'ospedale Sampio di Benevento. Ora i pazienti positivi in degenza sono 23. Preoccupanti le condizioni di 9 di loro che si trovano ricoverati nel reparto di pneumologia subintensiva. E il sindaco, Clemente Mastella, nella consueta telefonata domenicale rivolta ai cittadini si sofferma sulla variante Omicron rilevata purtroppo anche in Campania. è un pericolo ma gli esperti sono già al lavoro per affrontarla al meglio, spiega Mastella. Noi continuiamo a restare vigili e a tenere tutti i comportamenti prescritti per evitare il contagio. E richiama dunque la necessità di adottare l'uso dei dispositivi di produzione individuale e annuncia ulteriori misure di controllo. Dobbiamo essere molto attenti quindi la mascherina che voglio ricordare a Beneventi in Campania è ancora obbligatoria sia all'esterno quando c'è affollamento e sia all'interno. Distribuiremo maggior presenza e maggior controllo per quanto riguarda la polizia locale e le altre polizie. Ognuno farà controllo prima con una mola su esce. Se questo in realtà non avviene ci sarà la contravvenzione e quindi l'ammenda. Quindi siate da questo punto di vista molto rigorosi con voi stessi. E intanto oltre alla campagna vaccinale anti-covid procede con nuovi appuntamenti e anche Mi Voglio Bene la campagna di prevenzione oncologica gratuita promossa e organizzata dalla Regione Campania e dall'Asla di Benevento farà tappa a Castelvenera il prossimo primo dicembre. A Salerno un blackout elettrico ha provocato gravi disagi al centro Usca per ore. Non è stato possibile effettuare i tamponi. Vediamo. L'ondata di maltempo che da ora è imperversa sulla provincia di Salerno ha finito per colpire anche chi è in prima linea nella lotta al covid. Le abbondanti piogge cadute nella scorsa notte hanno provocato disagi al centro Usca di Salerno dove in mattinata gli operatori hanno dovuto fare i conti con un blackout elettrico che ha costretto a sospendere per qualche ora i tamponi. Decine di persone sono state costrette ad attendere in auto che il guasto venisse riparato da parte dei tecnici dopo un iniziale sopralluogo dei vigili del fuoco. Oltre al guasto elettrico il maltempo ha provocato allagamenti nel piazzale dell'Usca ed è addivelto gran parte della cartellonistica presente. In centro città invece è proseguita senza intoppi la corsa al vaccino. Circa 600 persone si sono messe in fila dinanzi al teatro Augusteo per ricevere la dose di richiamo per sottoporsi alla vaccinazione per la prima volta. Negli ultimi giorni il trend delle somministrazioni è tornato a crescere vistosamente. In tre giorni l'ha ballestito all'interno dell'Augusteo. ha vaccinato oltre 1500 persone un segnale incoraggiante che potrebbe consentire di mettere un freno alla curva dei contagi che è in costante risalita. Un invito a vaccinarsi che in queste ore ha rivolto anche l'arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi. Altrimenti si assisterà ancora al dramma di morti e anche di una vita economica che non riprende. quindi anch'io sono affinché la vaccinazione sia lo strumento diciamo che che universalmente viene perseguito per questo scopo. E continua l'ondata di maltempo in Campania molti disagi a Napoli dove si è aperta una voragine in Piazza Carlo Terzo evacuate 40 famiglie allagamenti e smottamenti anche nel Salernitano facciamo il punto nel servizio. Il maltempo continua ad imperversare su gran parte della Campania al punto che la protezione civile regionale ha prorogato di altre 24 ore l'allerta meteo di livello arancione pioggia e vento infatti stanno mettendo a dura prova la tenuta del territorio a Napoli in mattinata si è aperta una voragine in via Melloni nei pressi dell'ingresso di un condominio scongiurata l'ipotesi evacuazione per 40 famiglie che sono potute rientrare nel palazzo soltanto attraverso un negozio al piano terra non va meglio la situazione sulle isole di Capris che procida sospesi i collegamenti e di conseguenza anche gli approvvigionamenti alimentari criticità forti che hanno spinto diversi sindaci dell'area vesuviana a disporre la chiusura delle scuole per la giornata di domani lezioni sospese anche a Salerno ed in tanti altri comuni della provincia il maltempo infatti continua a far paura i disagi principali si registrano a Giffoni sei casali dove si è verificata la rottura della condotta idrica di Viausa nella frazione di Prepezzano la violenta fuoriuscita di acqua ha trascinato a valle anche una cospicua quantità di fango che ha invaso la strada fortunatamente non si registrano feriti ma due vetture sono rimaste impantanate a Salerno è caduto un albero in via Clark mentre piccoli smottamenti si sono verificati a Cava dei Tirreni istanti di paura si sono vissuti anche a Positano a causa della caduta di alcuni massi che hanno colpito due auto parcheggiate distruggendo nel vetro posteriore la cronaca la faida di Camorra Napoli Nord è morto nella notte il vero obiettivo del ride di mercoledì scorso la sparatoria al bar Roxy di Arzano Salvatore Petrillo 29 anni nipote del boss della 167 vediamo è morto nella notte all'ospedale San Giuliano di Giuliano Salvatore Petrillo 29 anni sorvegliato speciale vero obiettivo del commando di fuoco che mercoledì scorso ha colpito sparando all'impazzata davanti al bar Roxy di Arzano Petrillo era nipote del boss della 167 era ricoverato in prognosi riservata da 5 giorni dopo essere stato raggiunto da diversi colpi nel corso dell'agguato all'interno del locale di via Silone il 29enne secondo le prime ricostruzioni era il vero obiettivo del ride suo zio Pasquale Cristiano è il boss protagonista della sfilata in Ferrari di alcuni mesi fa quando attraversò Arzano per la prima comunione del figlio la sera di mercoledì intorno alle 20 almeno due sicari giovanissimi sarebbero entrati nel bar sparando all'impazzata sulla folla gli investigatori hanno ritrovato una ventina di bossoli pesante il bilancio con 5 feriti oltre a Petrillo anche due uomini incensurati considerati dagli inquirenti a lui vicini e con lui inquadrati nel clan della 167 di Arzano il 18enne Vincenzo Piamerolla trasportato al San Giuliano di Giuliano e il 39enne Luigi Casola che invece è stato ricoverato all'ospedale di Acerra tra i feriti anche due innocenti che sono stati colpiti per sbaglio da pallottole vaganti si tratta di un 36enne incensurato Roberto Lastra colpito a un piede ricoverato nell'ospedale di Fratta Maggiore e del 61enne Mario Abate idraulico di Arzano trasportato al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli secondo gli investigatori i due non sarebbero legati ad ambienti della criminalità ma sono rimasti vittima per errore dei due killer la sparatoria secondo quanto ha emerso sarebbe riconducibile a frizioni tra i vari gruppi della malavita organizzata nell'area nord di Napoli Provinciali ad Avellino il 18 dicembre sarà sfida tra Rizzieri Buonopane e Angelo D'Agostino 5 le liste in campo centro-sinistra ancora una volta spaccato vediamo chiuso a mezzogiorno il termine per la presentazione delle liste alle provinciali di Avellino del 18 dicembre sarà sfida tra il PD e Italia Viva tra Rizzieri Buonopane sindaco di Montella e Angelo Antonio D'Agostino primo cittadino di Monte Falcione per chi occuperà lo scranno più alto di Palazzo Caracciolo nel dopo Biancardi 5 le liste in campo per i 12 posti di consigliere provinciale Buonopane sostenuto da PD e Laboratorio Irpinia D'Agostino da Proposta Civica è davvero più equidistanti Mastelliani e Forza Italia con Irpinia protagonista quel che è certo che il centro-sinistra si è spaccato per l'ennesima volta io temo che si sia voluto mettere fuori Italia Viva c'è stato un tavolo sul quale sono emerse delle proposte diciamo non rispettose e quindi ho torto collo abbiamo provato a costruire in alternativa una proposta politica che tenesse in primo piano la provincia il momento eccezionale che stiamo vivendo D'Agostino ci ha abituato a scelte di questo genere però noi siamo contenti di fare una battaglia in maniera chiara in un perimetro chiaro e con i compagni di viaggio che sono quelli che hanno condiviso con noi i programmi e soprattutto un'identità io faccio in bocca al lupo ai due candidati alla presidenza sia Rino Bonopane che Angelo D'Agostino che vinca il migliore ma soprattutto che vinca la provincia di Avellino non mi attarderei nelle discussioni di partito perché se no dovremmo dire PD1 PD2 io in questo non ci casco è un equivoco la mancata accensione delle luci d'artista a Salerno ha provocato tanti disagi e anche la rabbia dei turisti che erano arrivati in città e avevano prenotato per questo weekend proprio per l'inaugurazione della Kermess vediamo appena siamo arrivati in hotel e ci hanno detto che le luci non sarebbero state aperte l'umore dei turisti arrivati a Salerno per godere dello spettacolo di luci d'artista e nero come il cielo di queste ore il rinvio dell'inaugurazione per motivi di sicurezza ha reso amarissimo quello che nelle intenzioni generali doveva essere il primo weekend turistico una doppia brutta sorpresa il tempo però il tempo mi avevamo messo in previsioni peccato per non aver trovato le luci le luci accese avevamo scelto questo weekend proprio per evitare anche l'affollamento covid purtroppo invece avevamo prenotato partiti però saltata anche questa e siamo partiti già preparati che sapevamo che non c'era l'accensione delle luminarie però siamo stati bene lo stesso se dovesse tornare a Salerno lei lo rifarebbe? sì vabbè perché comunque la città è bella quindi merita di ritornarci certo resta un po' l'amarezza di tornare torneremo sicuramente anche perché è una bella città per carità noi speravamo che erano accese però no no siamo stati bene abbiamo mangiato bene ci ha ospitato anche bene rabbia condivisa anche da albergatori e titolari di strutture ricettive che ora chiedono maggiore chiarezza al comune abbiamo inviato una comunicazione chiedendo appunto maggior comunicazione non è possibile che sapere all'ultimo momento della cancellazione dell'inaugurazione in questo modo si sono trovati spaisati diversi turisti e noi abbiamo subito diverse cancellazioni l'università degli studi del sannio quest'anno apre l'anno accademico con Oscar Farinetti un evento dedicato all'eccellenza enogastronomiche e al settore dell'economia dopo la crisi covid vediamo dopo il presidente della repubblica Sergio Mattarella e l'intervento del noto divulgatore scientifico Piero Angela sarà Oscar Farinetti l'ospito ed onore della cerimonia ed inaugurazione del nuovo anno accademico dell'università degli studi del sannio evento in programma il prossimo 28 gennaio e che per questa edizione sarà dedicato alle eccellenze agroalimentari del territorio noi avremo il 28 gennaio la oramai tradizionale siamo al terzo anno che teniamo la nostra inaugurazione il 28 gennaio il primo anno ricorderete abbiamo avuto il presidente della repubblica l'anno scorso abbiamo dedicato l'inaugurazione alla divulgazione scientifica con Angela e quest'anno invece facciamo un focus sulle eccellenze del settore agroalimentare avremo con noi Oscar Farinetti che è il fondatore di Eitali sarà un modo per ascoltare l'esperienza di chi ha fatto dell'agroalimentare italiano una bandiera nel mondo e sarà anche un modo per presentargli le eccellenze del nostro territorio attenzione dunque rivolta in particolare ad uno dei settori principali per l'economia del territorio per parlare di futuro e di ripartenza dopo la crisi post-covid che ha colpito l'intero paese che è sembrato importante in un momento nel quale cerchiamo di mettere a fuoco quali sono le leve su cui costruire il futuro di questo territorio ascoltare le parole di un imprenditore che ha saputo fare delle eccellenze agroalimentari italiane un punto di forza del nostro sistema e con questo chiudiamo il nostro telegiornale in regia Aldo Fenizia grazie per averci seguito arrivederci grazie a tutti grazie a tutti